Il mio obiettivo Il mio obiettivo quest'anno è scendere sotto 53, di quanto non so, dipende da tante cose, sotto 53 ci sento senz'altro. Ultimo allenamento di Roberto Formigoni qui alla montagnetta di San Siro, che in effetti è un po' il gota, il tempio dei grandi atleti milanesi che hanno vestito la maglia azzurra e che hanno fatto proprio qui della montagnetta di San Siro, come si dice, il Monte Stella, il loro status, simbol per cominciare le loro grandi carriere. Voglio ricordare Alberto Cova, Panetta, Marco Marchei, tanti maratoneti che proprio qua hanno iniziato la loro carriera. E sì, questa è la montagnetta di San Siro, questo è il luogo dove gli atleti negli anni successivi della Seconda Guerra Mondiale venivano ad allenarsi, velocisti e mezzofondisti. Quindi, certo, correre dove hanno corso Cova e Panetta fa una certa emozione. Direi che è la sintesi tra Panetta e Cova. La potenza del brevista come Panetta e la resistenza, la decisione e la tenacia del lunghista come Cova. Allora, Kainer, giudizio conclusivo su questi sei mesi di nuovo allenamento? Non dichiariamo nulla, ma sappiamo che stiamo bene. Aspettiamo sempre gli avversari all'arrivo che ci fanno prendere prezzo.